A due giorni dal summit decisivo alla Regione per i fondi FAS destinati alla Valle Peligna, la CGL rimarca con forza il proprio parere sull'indirizzo da dare ai fondi stanziati e si appela alla necessità che le decisioni in merito ai progetti servano a garantire un'occupazione e duratura per il territorio. La vera emergenza della Valle Peligna, si legge nella nota a firma del segretario provinciale Damiano Verrocchi, è il lavoro, che implica interventi immediati e di prospettiva, e il FAS deve rispondere a questa domanda, creando opportunità di lavoro stabili e durature senza precarietà. La CGL non tollererà un utilizzo del FAS che non porti occupazione. Il Comitato Ristretto della Valle Peligna, mercoledì, incontrerà la Regione, al termine del lavoro di raccordo e pianificazione svolto per programmare il finanziamento dei 16 milioni di euro stanziati per il territorio peligno. Tra i progetti discussi e approvati, per la prima volta in maniera condivisa da tutte le parti, è prevista la creazione di un fondo agevolato per l'accesso al credito per le piccole imprese, il rafforzamento e la creazione di imprese attraverso nuovi investimenti per l'innovazione, il progetto del fare impresa nel settore del turismo e della green economy, e il potenziamento del ciclo integrato dei rifiuti per il porta a porta. È stata respinta l'idea di realizzare in Valle Peligna una piattaforma di rifiuti industriali, prosegue Verrocchi, e questo valorizza ancora di più la vocazione turistico-culturale-ambientale ed ecosostenibile del comprensorio. Appare adesso di vitale importanza pensare all'industria manifatturiera sostenibile e la richiesta, promossa dalla CGL, di inserire la Magneti Marelli nel campus automotive regionale, appare ora quanto mai strategica. Il comitato ristretto, il 13 marzo, conclude la nota sindacale, deve rappresentare e sostenere anche questa idea di sviluppo, in quanto nella storia economica della nostra regione il polo automotive è primaria realtà industriale a livello europeo.